Ciao a tutti, faccio questo breve video diretta per dire che qualcuno su questo gruppo ha condiviso qualcosa di molto sconveniente creando un evento di natura diciamo così pornografica che non riguarda questo gruppo, non riguarda me, non riguarda nessuno quindi io l'ho naturalmente bloccato, ho rimosso il post di questo evento online pornografico sappiatelo, se qualcuno all'interno di questo gruppo crea cose di questo tipo lo fa senza la mia volontà e basta detto questo, buon divertimento, ognuno faccia sempre quello che vuole ma insomma su questo gruppo penso che ci siano delle regole piuttosto ovvie da rispettare ciao, ancora buona domenica prima parte, un'altra domanda oggi che ricetta? è un'altra domanda 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 è un'altra domanda